Il motore parte dell'ala destra di un aereo della Singapore Airlines ha preso fuoco subito dopo che il velivolo era stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Il volo SQ368 era decollato dall'aeroporto di Changi alle 2 ora locale ed era diretto a Milano. Poco dopo il decollo il Boeing è stato costretto a far ritorno all'aeroporto di partenza per un allarme per una perdita di olio al motore destro. Sono quindi intervenute le squadre di emergenza che hanno spento le fiamme e messo in salvo i 222 passeggeri e i 19 membri d'equipaggio.